Clean Cities, città pulita, la campagna itinerante di Lega Biente in Abruzzo a Pescara, i dati della pagella della città, valori alti per il tasso di motorizzazione, costi sociali ed economici dell'inquinamento, debole l'utilizzo dei mezzi pubblici, sempre più provato dalla pandemia, buono l'impegno dal 2019 su nuove piste ciclabili, strade a 20 e 30 all'ora e la partenza nel 2020 dell'offerta Sharing Mobility. I dati, dice l'associazione, evidenziano le criticità di una mobilità ancora incentrata sulle automobili, si avverte un cabbio di passo ma bisogna accelerare per una mobilità a zero emissioni nel 2030, precisa Silvia Tauro. Oggi in particolare vogliamo focalizzare come la transizione ecologica passi anche per una riscrittura della mobilità cittadina verso un trasporto a zero emissioni, quindi diminuire assolutamente il parco veicolare circolante all'interno delle nostre città, puntare su un trasporto pubblico a zero emissioni completamente sostenibile e d'altro canto su una riscrittura proprio dello spazio pubblico cittadino che punti a una smart city a 15 minuti, una città dove quasi tutto sia raggiungibile a piedi, quartieri carfri, strade scolastiche, riduzione della velocità e implementazione quindi della sicurezza e della vivibilità. L'assessore comunale Luigi Albore Mascia. Tra l'altro stiamo lavorando proprio con Legambiente con una positiva collaborazione che ci consentirà da qui a qualche mese anche di avere su Pescara una seconda ciclostazione proprio nella stazione centrale di Pescara. E perché è importante la ciclostazione? Perché la ciclostazione è uno degli elementi che andrà a comporre quel mosaico complesso che è la mobilità sostenibile. La qualità dell'aria, una buona qualità dell'aria può essere garantita ai cittadini proprio attraverso un sistema che consenta attraverso infrastrutture, attraverso un'offerta che l'amministrazione è chiamata a dare ai cittadini stessi di evitare l'uso degli autoveicoli a combustibile fossile. E quindi biciclette, monopattini, scooter sharing, intermodalità, l'uso del treno e quindi la possibilità, grazie a Legambiente e RFI, anche di trovare una ciclostazione in cui lasciare la propria bicicletta o trovare delle biciclette a noleggio.